10.45, bentornati in diretta, buon weekend, di nuovo buongiorno a Francesco Pierantozzi, andiamo subito a salutare Noemi Signorile, ciao Noemi, buongiorno, benvenuta qui su SkateSport, ciao, come stai? Ciao, buongiorno, tutto bene, grazie, tutto bene. Ti aspettavo in palestra in realtà, noi tra poco facciamo vedere quella che è la programmazione della Serie A1 di Volley, chiaramente al femminile, con questa tredicesima giornata, il 2023 si apre per voi con il sorriso, pensando a come si è chiuso l'anno, ma c'è voglia di graffiare, come dite voi ancora, e di farlo alla grande in questo nuovo anno, no Noemi? Che momento è per la tua squadra? Assolutamente, assolutamente, siamo una squadra molto agguerrita, composta da molti elementi giovani che hanno voglia di dimostrare, di farsi vedere, quindi assolutamente, ci aspettiamo un 2023 graffiante. Tu sei la capitana, sei la veterana, tra virgolette, senza guardare l'età, ma soprattutto perché Cuneo ci ha abituato negli anni a cambiare di anno in anno, no? Cosa vuol dire per te essere invece legata a questa società, a questa squadra, a questa città e ogni anno guardarsi intorno e vedere ragazze nuove, compagne nuove? Sicuramente giocare ogni anno con compagne nuove è anche un po' una sfida per me, perché comunque essendo il palleggiatore ogni anno devo trovare il feeling con compagne nuove. E poi essere comunque qui da tre anni, essere considerata un pochino la portabandiera, la giocatrice fondamentale per Cuneo, per me è proprio un motivo di orgoglio. Poi ormai Cuneo è diventata un po' come casa mia, quindi sto davvero bene qua. Lei è abituata però a cambiare, ha vinto in tre nazioni diverse, ha vinto in Francia, in Romania e in Italia, lo Scudetto. Quindi ha girato parecchio ed è abituata a compagne di ogni tipo, diciamo così. Adesso parliamo della classifica, siete esattamente allo stesso livello con le vostre avversarie che troverete anche su Sky. 15 punti, dicembre avete perso tre partite ma ha vinto l'ultima, quindi una su quattro, un po' meglio Vallefoglia di voi. Sì, diciamo che abbiamo avuto una giornata di andata un po' complicato, siamo state molto sfortunate, abbiamo avuto un po' di infortuni, alcune ragazze che sono arrivate tardi dalla nazionale, quindi ora sicuramente questo 2023 spero, toccando ferro, di poter avere tutte le mie compagnie a disposizione. Poi sicuramente Vallefoglia è una squadra molto forte perché adesso si è anche rinforzata, è arrivata la giocatrice americana molto forte, la Drews, quindi sarà secondo me una bella battaglia quella di domani sera. Com'è la qualità del campionato italiano, paragonandolo appunto a quelli esteri, anche se ormai sei tornata in Italia da parecchio tempo? Il campionato italiano secondo me è il campionato più bello del mondo, non ha rivali, assolutamente, sia in Francia dove sono stata che in Romania il livello era buono, ma come quello italiano non ce n'è. E lo dice anche la classifica, no? Con movimenti anche diversi rispetto agli anni scorsi, con Eliano chiaramente, ma anche qui c'è stata una mini rivoluzione. Prima mi riferivo a come si è chiuso l'anno, sicuramente la vittoria nel derby con Novara-Santo Stefano, dove avete apprezzato anche il palazzetto pieno. Che spinta vi dà, se vuoi dare un messaggio anche domani, a seguire su Sky e venire a seguirvi dal vivo? Che spinta è avere il palazzetto pieno? Sì, il palazzetto pieno, vedere giocare col palazzetto pieno è una cosa fantastica, perché comunque ti dà quella spinta in più. Infatti quando uno dice che il tifosi, il pubblico è il settimo giocatore in campo è vero, perché comunque ogni punto hai tutto il pubblico dalla tua parte, è proprio una spinta che ti dà, quindi assolutamente spero di vedere di nuovo il palazzetto pieno e per chi non potrà assolutamente di seguirci su Sky, perché comunque li sentiremo lo stesso anche dal campo. E poi la curiosità dice, ma Vallefoglia dove è? Quanto è grande Vallefoglia? E uno dice, perché Vallefoglia non la conosciamo? Queste sono le domande che mi sono fatto anche io, perché Vallefoglia è un comune nuovo del 2014, nato dall'unione di altri due comuni. col Bordolo e Sant'Angelo in Lizzola e siamo nelle Marche. Io ho in qualche modo sfruttato l'occasione per imparare qualcosa di nuovo e chiedo scusa a Vallefoglia perché non lo sapevo che fosse nato nel 2014. Io a Noemi, per chiudere, volevo anche farti raccontare il rapporto particolare che avete con il vostro allenatore, perché Zanini lo conosciamo per la sua esperienza, al suo curriculum e non spesso troviamo una figura come lui, cioè associata nel passato anche al volley maschile, allenare una squadra femminile. C'è qualcosa di diverso anche nel suo atteggiamento? In queste immagini che abbiamo raccolto si vedono anche il momento in cui vi confrontate, no? Sembra anche molto pacato. È davvero così? È un suo modo di essere? C'entra anche il suo passato? Beh, allora sicuramente lui è un allenatore molto particolare, nel senso arrivando dal maschile e non avendo mai allenato comunque una uno femminile, si è trovato davanti delle giocatrici donne con problematiche magari diverse che possono avere gli uomini. Quindi diciamo che ci stiamo un po' venendo incontro tra tutte e due. Lui ha portato un po' di pallavolo maschile da noi, noi stiamo provando a fare un pochino il suo gioco e ci stiamo conoscendo, ci vuole tempo, comunque adesso tutto un girone di ritorno, però pian piano ci stiamo conoscendo e ci stiamo cominciando un po' a capire, ci troviamo anche in campo, cioè facciamo quello che vuole lui. Quindi sicuramente per noi è una cosa nuova, ma come lo è anche per lui, perché comunque le donne sono completamente diverse rispetto agli uomini, quindi ci dobbiamo venire in contravicenda. A proposito di donne, tu hai imparato molto in nazionale da Leo Lobianco che era davanti a te, ora stai facendo lo stesso che Leo ha fatto con te a livello di club con le altre ragazze? Sì, sì, io ho imparato tantissimo da Leo, Leo è sempre stato il mio idolo fin da piccola e anche solo vederla giocare, anche solo giocare con lei comunque, perché ho giocato con lei qualche anno, per me è stato utilissimo. Ora un pochino con le ragazze più giovani cerco di fare un po' quello che faceva lei con me, perché comunque Leo, oltre ad essere una grandissima pallavolista, è anche una grandissima persona, quindi ho imparato anche soprattutto quello da lei e cerco di fare lo stesso con quelle più piccole. Noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, prima abbiamo anche curiosato sulla tua pagina Instagram, vediamo una grande passione per i cani, a cui ci uniamo ovviamente, come si chiama il tuo cagnolino, eccolo qua? Macchia, macchia. Splendido, ma ho capito bene che ti ha seguito anche al palazzetto qualche volta? No, sempre, sempre, lui mi ha seguito ovunque, lui ha quasi 12 anni, ha il passaporto perché è venuto con me ovunque, sempre presente, tutte le partite lui non manca, quindi è proprio la mia mascotte. Carinissimo, grazie anche per averci, ecco, anche per aver condiviso anche questo, eccola qua, vedi, è palazzetto chiaramente, giusto? Sì. Bene Noemi, grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi. Vi seguiamo, come si fa, nel weekend con il volley al femminile. Noi ti saluto, Francesco, grazie per essere stato con noi, chiamo Giancarlo Padovan, adesso apriamo la pagina dedicata al calcio, prego. Grazie. 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 Grazie.